Tengo famiglia, il popolare modo di dire per astrarsi da tutta una serie di problemi, qui non ha diritto di cittadinanza, perché proprio quando si ha famiglia c'è bisogno di impicciarsi di quello che avviene nella società, ha detto il regista Alessandro Dalatri, che nel pluripremiato casomai affrontava appunto i problemi dell'ambito familiare, nuovo presidente della giuria dopo Pupiavati alla seconda edizione del FUG Family Festival. Tra le novità di questo festival, diretto da Andrea Piersanti, il potenziamento dell'impegno della regione Lazio per rendere la rassegna una vetrina europea, il vaglio della Biennale di Venezia della domanda di istituire un premio per la difesa della vita alla prossima mostra, risposta attesa ai primi d'agosto, e la nascita del premio di sceneggiatura per dar vita ad un laboratorio di scrittura rivolto al target familiare. Grazie 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 Grazie